ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video vi risentiremo ciao a tutti tra poco perché ho dimenticato per l'anteprima come orecchini ho utilizzato i cornetti porta fortuna collana cambia colore con scritto dentro forever questa l'avevo regalata la mia migliore amica Elena che ha anche a sua mamma perché avevano tre gli anelli quindi uno glielo ho regalato a lei e a sua mamma questo lo sono ottenuto io quindi seguite il tutorial ci vediamo i prossimi video iscrivetevi al canale bene basta iscrivetevi e seguite il tutorial tra poco ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video make up tutorial di natale parte quarta oggi utilizzeremo sempre la paletta dual chrome l'utopia questo bellissimo viola ci metteremo qualcosa altro vedremo adesso inizio ci vediamo tra poco per l'occhio finito eccomi tornata ho utilizzato anche la finisce per fare gli angolari quindi ho già portato avanti il lavoro adesso insieme con la mia di tino se il solito indice vediamo utopia lo vado a mettere sulla propria mobile lì vado a ricalcare e a picchietta verso adesso i punti digitali riprende mio penino angolo di neve di calco bene le parti lì vado a ricalcare adesso togliamo da neve la stitoli che la chiamo io io ho già fatto prima il contouring così saltiamo una parte è ancora bianca però nella telecamera qua non lo sono vabbè si chiama illusione ottica bene ehm dunque è finito vedete che si possa un po' un po' di si vede un po' di luce vi lascio le foto così come sempre le foto non sono qua che dormono come sono i pocianti se il video vi è piaciuto mettetevi un piace se non vi è piaciuto pace iscrivetevi al canale iscrivetevi al secondo canale io ci sono i miei video sono i miei video che sto per girare tra poco un nuovo video riguantando la registrazione del video dell'ABS che utilizzo perchè ho cambiato il sistema di di fare il coso per i video questo video è tutto ci vediamo ai prossimi video si 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 da fulmina ciao a tutti iscrivetevi al canale mi raccomando io ci sono sempre c'è anche Italia oggi c'è anche Italia oggi c'è anche Italia oggi si è fatta prendere oh ciao ciao a tutti Italia qui sono una solita cimica mi raccomando riuscivetevi al canale di mamma e al canale di papà e i suoi video games mi raccomando e tremi e ti tremi in questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video pao pao ciao a tutti i ciao a tutti i ciao a tutti i ciao a tutti i